Siamo qui al Borgo, siamo in un momento di preparazione per la serata Canora che sta per procedere qui al Borgo, per cui è il momento dietro le quinte, vorrei farvi partecipi. Siamo dietro le quinte, siamo dietro le quinte in questo momento, per cui, ecco Edoardo il titolare, siamo dietro le quinte, siamo qui con la giuria, recezione naturalmente, quindi faremo un saluto. Che bello, che bello trovarsi qui questa sera, signori e signori, in un contesto straordinario, in un contesto dove la voce farà la differenza e allora, se siete d'accordo con me, fate anche buona differenza per me, su con le mani, gente! Siamo dietro le quinte, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti!